stai più ingammellando la fama che lo fai eh? che bello o che bello questo qua è la prima pagina oh togli il parlato perché io ho sparato un po' di castello stai lì da guarda sul posto che lo fai? si sentono i martelletti? ma non vai a mangiare la chiamerevo da casa direttamente? faccio due chilometri con voi giusto per anche perché mi avete fatto una bella ci tenevo eh? no scorta ma non faccia lì mangiare no no gliela ha portato stai più stai più stai anche troppo fa un gire da quel chilometro no no voglio fare io io vado fuori perché questa porta può praticamente rivoltarti a fare un disagio si perché non ha... non ha la cinghia? no non gliela ho messa io ah le chiavi? ha